Benvenuti a questo incontro di Biennale Tecnologia, sono Juan Carlos De Martin, un docente in questo Ateneo, docente di ingegneria informatica, nonché co-curatore di Biennale insieme a Luca De Biase e sono qui per una volta per giocare un ruolo anche di contenuti perché siamo qua a parlare dello smartphone insieme al collega amico Marco Gui, sociologo all'Università Milano di Cocca e vogliamo parlare di questo oggetto che sono convinto tutti quanti in questa sala o forse con rarissime eccezioni ma molto poche avete in tasca, cioè dello smartphone. Ne parliamo con due prospettive differenti come lo spirito di Biennale perché a Biennale parliamo di tecnologia però facendo dialogare i saperi, quindi nel mio caso appunto sapere tecnico e Marco un sapere delle scienze sociali e poi sapete anche le scienze umane, le arti e così via. Il formato lo ricordo è sempre lo stesso quindi parleremo noi in questo dialogo per circa 45 minuti e poi avremo 10-15 minuti per domande del pubblico che sono non soltanto tollerate ma anzi incoraggiate e benvenute perché è un'occasione di dialogo, non soltanto di ascolto. Siamo d'accordo che comincio a dire qualche parola io per poi dare la parola a Marco e poi comunque procederemo in conversazione perché dal mio punto di vista di ingegnere informatico che da quando era bambino letteralmente adora questi oggetti, questi oggetti mi ricordo ancora perfettamente quando mio padre, io avrò avuto 10-12 anni, quindi fino anni 70, porta a casa un oggetto sottile, sottile, dorato, me lo ricordo ancora adesso, sottile, lucicante, era una calcolatrice tascabile giapponese per fare quattro operazioni, quattro operazioni sono quello che sono però mi piaceva tantissimo, però non sapevo all'epoca che gli storici avrebbero detto che quello era il primo dispositivo elettronico palmare, la parola palmare si è usata per molti anni e poi per qualche motivo è caduta in disuso, c'è un oggetto che sta nel palmo della mano e questo è un oggetto che sta nel palmo della mano, ovviamente da quell'oggetto elettronico che faceva le quattro operazioni e niente altro, siamo passati a un oggetto più o meno delle stesse dimensioni, un po' più pesante, che fa ben di più, una delle migliaia di operazioni che può fare è emulare la calcolatrice che fa le quattro operazioni da cui era partita la storia. Quindi io parto con un attaccamento totalmente irrazionale per queste tavolette di silicio e ne ho seguito il percorso nel corso degli anni perché queste tavolette di silicio sono diventate calcolatrici programmabili, sorprendentemente pochissimi anni dopo quella prima calcolatrice che mi diede mio padre, parlo del 1980-81, c'erano le prime calcolatrici con una tastierina completa programmabile, in basic per chi se lo ricorda, quindi della sharp o di altre case e poi da lì continua una storia di fatto di calcolatrici che diventano progressivamente calcolatori, quindi computer, computerini tascabili e questa storia di computer che è progressivamente sempre più sofisticati che cominciano a avere delle funzioni che prima erano relegate alla carta, l'agenda, la rubrica e così via, poi si interseca con un altro oggetto che è un'altra ascendenza che è quella del telefono, ovvero questi calcolatori palmabili verso l'inizio degli anni 90 cominciano a ibridarsi con il telefono cellulare. Il telefono cellulare che è un'altra ascendenza, quella del telefono, Alexander Graham Bell, telefono fisso, poi primi telefoni portatili dentro una valigetta proprio perché sicuramente telefoni sempre più portatili, per esempio più piccoli e a un certo punto queste due specie si accoppiano e cominciano a nascere dei telefoni che hanno delle funzioni che assomigliano a calcolatrici portatili o viceversa, perché in realtà c'è un periodo storico di abiguità dove due incroci competono, calcolatrici che possono anche telefonare e telefoni che sembrano computer. Queste due cose si fronteggiano per alcuni anni, ci sono già dei proto smartphone, magari qualcuno di voi l'ha usato, io li ho usati il Pantreo o alcuni altri, sono cose di nicchia, però entusiasmanti per gente con le mie perversioni, è molto utile, puoi farci la mail, per esempio qualcuno avrà usato il Blackberry, il Blackberry è uno smartphone che permetteva, con una tastierina fisica, perché all'epoca si usava una tastierina di fare posta elettronica. Questi oggetti poi hanno un salto di qualità nel momento in cui, come tutti sappiamo come è entrato ormai nella leggenda, la Apple che stava lavorando segretamente come anche Google, come anche Microsoft e altri, annuncia nel gennaio del 2007 l'iPhone che entra in vendita sei mesi dopo, nel giugno del 2007, lì ci sono alcune innovazioni, costruendo su quello che era avvenuto nei dieci anni precedenti, nei quindici anni precedenti, c'è una discontinuità con alcune scelte di interfaccia, soprattutto con lo schermo che occupa tutto lo spazio del telefono con l'interfaccia tattile e la tastierina virtuale, che cambiano la storia, per cui parliamo, e lo dico anche nel mio libro contro lo smartphone per una tecnologia più democratica, di cui effettivamente ha senso parlare lì, a gennaio del 2007 nasce l'epoca degli smartphone moderni, che vuol dire che allora hai un computer sul quale puoi installare delle applicazioni esattamente come il computer portatico, il quale se ci tieni puoi anche fare le telefonate, è un'applicazione che prima per il telefono cellulare era l'unica applicazione, adesso diventa una delle tante e tra l'altro spesso neanche una delle più importanti a seconda delle fasce d'età, in alcuni casi residuale il fatto di poter fare delle telefonate, e questo oggetto quindi dal 2007 comincia a espandersi, all'inizio è un oggetto sostanzialmente per ricchi, di nicchia, 2007, 2008, 2009 e così via, e poi con l'abbassamento dei prezzi, la produzione su larghissima scala prevalentemente in Cina dal 2012 comincia superata la soglia del miliardo di smartphone venduti al mondo, entriamo nella nostra era, quindi sono 12 anni che viviamo nell'epoca dello smartphone di massa, quindi questo computer che abbiamo con lo schermo più o meno grande che ci portiamo dietro, che può fare tantissime cose differenti, moltissime funzionalità che prima erano separate, il contapassi, io ho ancora trovato in un cassetto un vecchio contapassi che si usava all'epoca per sapere quanti passi al giorno adesso fa questo oggetto e così tantissime altre cose anche umili, per esempio è sorprendentemente interessante vedere come la torcia di questo oggetto sia diventata una funzionalità importantissima, quindi moltissime cose sono confluite su questo oggetto e quindi è un oggetto di straordinaria utilità, versatile, divertente e così via, però perché vi sto parlando dello smartphone? Vi sto parlando dello smartphone perché questa utilità, figuratevi a uno come vi dicevo prima con le mie attitudini quanto lo trovo attraente, però questo è un oggetto a un certo punto che mi sono reso conto che si è diffuso con una velocità strabiliante, quindi mi è venuta voglia di capire un attimo ma chi lo sta usando, ma quanto lo sto usando e poi sentiremo Marco anche sull'uso proprio dello smartphone specialmente per certe categorie, ma quante persone al mondo lo stanno utilizzando, quanti stanno ancora utilizzando il vecchio telefono cellulare, quindi ho un desiderio di dire che c'è una cosa velocissima, avere un po' di numeri e vi dico semplicemente che sono più di 4 miliardi di utenti unici di smartphone, quindi più della metà del mondo contando tutti dai neonati ai centonari, di smartphone in attività ce ne sono in realtà più di 6 miliardi, questo perché ci sono anche smartphone delle grandi organizzazioni, smartphone aziendali, di eserciti e così via, quindi il numero è il 50% superiore rispetto agli utenti unici, che lo usano con un numero di ore crescente anno dopo anno, siamo ormai in media tra le 4 e le 5 ore al giorno con grandissime differenze a seconda delle zone culturali e delle fasce di età. Questo è rilevante perché se vuol dire che lo smartphone è diventato un fenomeno planetario con un tempo di utilizzo che è entrato in territorio televisivo, per quelli che hanno la mia età, molti discorsi sullo smartphone, che è uno schermo, sono discorsi che si facevano, si sono fatti per decenni per la televisione. L'altro schermo, molto più grande, molto più stanziale, la grande ladra di tempo veniva chiamata perché appunto rubava e ruba ore e ore di tempo alle persone. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto molto rilevante e forse il più importante in assoluto per me è che a un certo punto ho detto devo approfondire questa cosa e scrivere un libro a questo proposito perché questo oggetto è diventato indispensabile e questo è qualcosa che non è mai successo prima che un essere umano, per essere essere umano, cittadino, studente, lavoratore e così via, a sue spese debba possedere e portare con sé uno smartphone personale funzionante perché altrimenti viaggiare, pagare, comunicare e così via non si può più fare o si può fare con grandissima fatica e difficoltà. Qualcuno mi viene a dire discutendo dello smartphone ah ah io non ce l'ho e ci sono due categorie di persone, uno persone che appunto per il loro stile di vita oggettivamente possono ancora usare un vecchio telefono Nokia perché molte funzionalità non ne hanno bisogno e poi un'altra categoria molto più ristretta di persone che si possono, benché molto attive, possono permettersi di non averlo e quindi dicono ah io non ce l'ho, come dire, c'è la mia segretaria, contattate lei perché tanto io non ho mica bisogno e per questa piccola nicchia di persone è interessante perché allora è tornato come dire un mezzo di comunicazione privilegiato l'SMS, io sono mica su Whatsapp quella roba per Playbay, se vuoi mandami un'SMS se hai il mio numero. Quindi è essenziale per quasi tutti tranne appunto per pochissime sacche di persone e questo secondo me va discusso, cioè una macchina diventa indispensabile allora dobbiamo assolutamente cercare di capire e lo possiamo fare tutti ma che cos'è questa macchina e quindi capire un pochino, se è possibilissimo farlo, qua dentro cosa c'è? Questa è una macchina chiusa, una macchina opaca, luccicante, divertente ma opaca, quindi cosa c'è dentro questa macchina e poi cosa implica questa macchina, quali sono le conseguenze di questa macchina e poi la cosa per me decisiva, magari ci torniamo dopo, è questa macchina chi la controlla? Perché se questa macchina è indispensabile, se questa macchina è controllata da qualcuno, quel qualcuno controlla me, controlla la macchina, tramite quella macchina controlla me e quindi è indispensabile capire qual è la mappa del potere di questa macchina. Quindi da una parte le conseguenze, ecco la sentiamo Marco, Gui, perché le conseguenze di questo oggetto sono ormai studiate da moltissimi ricercatori in tutto il mondo e Marco è stato un precursore di questo tipo di studi e dall'altra però non soltanto le conseguenze, ma questa macchina appunto chi la determina? Questa macchina certe cose le fa perché qualcuno ha deciso che le fa e certe cose non le fa perché qualcuno ha deciso che non le deve fare e quindi è indispensabile, ripeto, a maggior ragione perché è diventata sostanzialmente indispensabile, una problematizzazione, una critica dello smartphone. In generale della tecnologia va benissimo, ma specificamente dello smartphone per capire appunto ma ci va bene davvero avere una macchina indispensabile punto numero uno? Cioè va bene che così come adesso da circa 100 anni, 1924, in inizio dell'era fascista, obbligatorietà di un documento di identità, che prima era soltanto per i pregiudicati, quindi all'epoca però un pezzo di carta, una roba passiva, ci va bene che ci avviciniamo di fatto, se non è ex legge, de facto al punto in cui ci dicono, ha lo smartphone? Ci faccio vedere lo smartphone? Perché magari il prossimo documento è qui, come progressivamente sta infatti capitando. Allora non sto dicendo che a priori lo vogliamo, lo vogliamo, dobbiamo rifiutare, non sto argomentando questo, sto argomentando che è un passaggio inedito della storia umana e va attentamente discusso per capire le implicazioni pratiche, in questi giorni di benare tecnologia la batteria si scarica e verso metà pomeriggio sono detto una caspita se si spegne è un problema perché qua dentro i miei collaboratori mi dicono c'è da correre qua, c'è da fare questo, c'è da fare quest'altro, non posso permettermi che sia scarico, quindi aspetti proprio pratici, che vuol dire anche che una signora che deve prendere il treno, il biglietto è qua sopra, si è scaricato il telefono, che fa? Non prende il treno, si prende una multa, mentre prima c'era un comodo cartoncino anonimo che potevo mettermi la borsetta e viaggiare tranquillo. E poi però a parte le implicazioni pratiche, proprio delle implicazioni più in generale di tipo etico e democratico, cioè cosa vuol dire il fatto che io per essere umano debbo possedere una macchina non controllata da me, opaca, quindi non una macchina che si è messa tutti quanti d'accordo di dire va bene usiamo questa macchina per una serie di motivi, la macchina è trasparente, abbiamo deciso le caratteristiche ha e se ci sono dei problemi interveniamo collettivamente per farla evolvere, non è così, questa macchina è una macchina controllata da due aziende che hanno i loro quartieri generali a 15 km, l'uno di distanza nella cosiddetta bea area vicino a San Francisco e sono loro che decidono se qua sopra si fa una certa cosa o non si fa una certa cosa e tutti gli altri, governi inclusi come abbiamo visto durante la pandemia, l'unica cosa che possono fare è chiedere, non dico supplicare, ma chiedere a queste aziende per favore potresti attivare questa funzionalità che vorremmo se possibile fare una certa cosa all'interesse pubblico e loro possono dire come hanno fatto, no, così come lo volete fare voi non si fa, si fa semmai in quest'altro modo. Quindi questo è quello che a me sta a cuore e quando ho fatto e concludo il capitolo del mio libro che parlava delle conseguenze dello smartphone, che è in assoluto il capitolo che mi ha creato più problemi perché le conseguenze dello smartphone ormai sono una letteratura sterminata perché le conseguenze sono quelle fisiche, ortopediche, sono quelle psicologiche, sono quelle sui media, sulla politica e così via, una letteratura gigantesca, quindi di fatto era un libro o più libri, un'enciclopedia a se stante delle conseguenze dello smartphone, ho voluto alla fine, d'accordo con il mio editore, fare almeno alcuni riferimenti che sembrano emergere dalla letteratura, tra cui proprio quello su cui Marco Gui è un grandissimo esperto e a questo punto allora mi taccio e passo la parola a lui. Grazie, grazie mille dell'invito e allora siccome Juan Carlos è iniziato con un racconto, anche io racconto di quando vedevo i cartoni animati all'inizio degli anni 80 e c'erano i personaggi con l'orologio, con lo schermo che dicevano ehi capo stiamo arrivando e tutti i bambini volevano, ci immaginavano che nel futuro sarebbe stato possibile fare questa cosa. Oggi è possibile, ma è possibile molto di più, lo smartphone è un capolavoro della tecnologia, ma leggendo il libro di Juan Carlos ho capito anche che è un capolavoro di organizzazione dei mercati, perché dentro ci sono pezzettini che poi sono i sensori, ognuno è prodotto in una specifica parte del mondo, ne si combina gli altri con degli accordi, ci sono dei monopoli su alcuni materiali, alcune tecnologie, quindi è un capolavoro anche di organizzazione, forse è l'apice per quanto abbiamo visto finora della rivoluzione digitale e anche del capitalismo globale da un certo punto di vista. E' interessante vedere che questo capolavoro, questo apice organizzativo e tecnologico ci mostra però quali sono i nostri limiti, i limiti dell'essere umano, io ultimamente ho ragionato molto su questo, limiti che sono limiti, come diceva Juan Carlos, fisici, organizzativi, ma anche psicologici, anche esistenziali. Ecco, lo smartphone è lo strumento dove più si vede quel fenomeno che nelle scienze sociali si chiama la convergenza delle reti comunicative. Dentro c'è la vecchia rete informatica, c'è la rete delle telecomunicazioni, una vecchia tv, e poi c'è la rete telefonica. Queste tre reti convergono lì, infatti se noi ci mettessimo a dire quanti dispositivi delle tre reti noi abbiamo sostituiti con lo smartphone, faremmo una lista lunghissima, più di 40 tecnologie una volta ho provato con gli studenti al corso. Bene, dicevo che questo strumento ci mostra anche dei nostri limiti. Prima Juan Carlos diceva che è diventato uno strumento irrinunciabile senza che nessuno l'abbia voluto veramente, l'abbia deciso, l'abbia scelto democraticamente. Perché è successo questo? Una delle ragioni che io ho studiato negli ultimi anni è che all'inizio degli anni 2000 c'è stata una fortissima onda di opinione ottimista nei riguardi delle tecnologie digitali. Questo ottimismo aveva una serie di caratteristiche e riguardava soprattutto i più giovani di cui poi parleremo. La caratteristica dell'urgenza, cioè è arrivata questa tecnologia, bisogna fare veloci, prendere tutto quello che si può perché dopo se no rimaniamo indietro. Poi aveva la caratteristica dell'astrattezza, cioè sui benefici che questo avrebbe portato. Negli anni 90, primi anni 2000 c'erano un sacco di guru della digitalizzazione che ci dicevano che sarebbero migliorate tutta una serie di dimensioni della vita sociale e individuale grazie alla tecnologia digitale. Oggi noi possiamo dire che quelle cose non erano errate perché la potenzialità c'è, ma le condizioni per cui quelle potenzialità si trasformino davvero in benefici per noi erano molto più complesse di quanto potessimo immaginare. E allora vediamo un po' perché lo smartphone ci ha rivelato soprattutto i nostri limiti. Allora lo smartphone è uno strumento che ci bombarda di stimoli. Questa è la cosa più immediata che noi vediamo. Questi stimoli sono utilissimi potenzialmente, sono informazioni, sono relazioni con gli altri, sono informazioni che ci servono a istruirci, ad avanzare, a lavorare, eccetera eccetera. Però questo bombardamento di stimoli tocca alcune corde dell'essere umano che mostrano appunto questi limiti. Prendiamo per esempio la sovrabbondanza. lo smartphone ha fatto terminare definitivamente l'era della scarsità di informazioni. Oggi abbiamo tantissime informazioni e ce le abbiamo sempre a portata di mano con la connessione permanente, cioè mentre dormiamo, mentre in tutti i momenti della giornata. C'è una letteratura su cosa succede quando le persone hanno a disposizione un range di scelte troppo ampio. Cioè possono comprare un televisore in un negozio che ne ha 10 oppure in un negozio che ne ha 10.000. Empiricamente succede che nel negozio che ne ha 10.000 le persone fanno una fatica incredibile a comprare questo televisore. Sono indecise fino all'ultimo e poi quando l'hanno comprato, tornando a casa, hanno come quel sentimento di disagio per dire magari c'era quello il 346 che forse era un pochino meglio. Ecco questa difficoltà nel scegliere ciò che davvero è bene per noi è stata sottovalutata. Per cui nel confronto con tutta questa sovrabbondanza noi ci troviamo a fare fatica. In più questa sovrabbondanza ci arriva in una maniera frammentata, cioè con stimoli veloci, con interfacce che si sovrappongono le une alle altre e che quindi ci fanno gestire processi, gli stessi processi contemporaneamente. Questo è stato uno dei cavalli di battaglia di quella retorica di cui parlavo prima, il famoso multitasking. Si diceva finalmente abbiamo una generazione che sa fare il multitasking, è cresciuta nel multitasking e quindi dobbiamo educarli attraverso il multitasking. Oggi non si dice più perché sono emersi i risultati di ricerca che dicono il multitasking riduce le performance cognitive e quindi seppure può essere utile farlo per determinate attività, se lo utilizziamo come modalità permanente abbassiamo le performance cognitive. In più ancora come ciliegina sulla torta c'è il fatto che tutti questi stimoli sovrabbondanti arrivati in maniera frammentata hanno delle caratteristiche che ci attraggono in maniera incredibile e queste caratteristiche che già si conoscevano all'epoca della televisione, del cinema, sono quelle della famosa media logic. Ci sono alcune cose che come nell'alimentazione c'è il grasso, il salato e il dolce e quando ce li abbiamo tendiamo a mangiarne più del dovuto, ci sono alcuni stimoli che ci fanno consumare più del dovuto, sono gli stimoli di natura sessuale, gli stimoli relativi alla violenza, gli stimoli relativi alle persone famose, alle tragedie, alle cose sensazionali. Si è costruita, e questa è una delle cose che forse non era stata prevista negli anni 90 quando si pensava ai benefici di internet, un mercato che sfrutta questi contenuti attrattivi tra cui c'è anche il fatto per esempio di essere riconosciuti dagli altri con un like, per fare business sulla nostra permanenza nelle piattaforme e quindi visione delle pubblicità, cessione di dati che alimentano questo meccanismo. Quindi ci troviamo dentro questa sovrabbondanza, frammentazione e gratificazione immediata che questo strumento ci porta continuamente con noi. Sono stati fatti degli studi su questa gratificazione immediata che hanno mostrato che è proprio un qualcosa che nella competizione dei vari stimoli ci gratifica immediatamente di più di invece un'esperienza che magari succede fisicamente vicino a noi, che lì per lì è meno attrattiva, anche se poi a lungo andare potrebbe darci delle soddisfazioni più grandi. Le neuroscienze hanno cercato di mettere anche in relazione tutto questo con diversi neurotrasmettitori, per cui hanno detto che la dopamina sarebbe implicata in questi piaceri immediati che noi abbiamo e che è giusto che abbiamo, ma se ci concentriamo troppo su questo piacere immediato lasciamo da parte una serie di soddisfazioni di più lunga durata. Vediamo ora, veniamo ai bambini, adesso non so se volevi fare... Allora, veniamo ai bambini. Questa retorica tecnottimista di cui parlavo prima ha fatto sì che ci fossero davvero poche resistenze al fatto che questo strumento così meraviglioso, così complesso e anche così pieno di problematiche nella gestione quotidiana finisse ben presto nelle mani dei bambini e con un'anticipazione dell'età sempre maggiore, sempre in evoluzione. Per cui oggi noi ci troviamo con circa un terzo, un 20% dei bambini che già alla scuola primaria riceve uno smartphone personale, poi c'è una maggioranza che lo riceve tra la quinta elementare, la prima media e poi c'è una coda che lo riceve lungo le scuole secondaria di primo grado. I genitori quando vengono intervistati o vengono sentiti nelle sarve rispetto a questo fenomeno manifestano un certo disagio e non so se conoscete il sito Common Sense Media, se non lo conoscete dadgli un'occhiata perché è bellissimo, ci sono indicazioni per le famiglie sui contenuti, videogiochi eccetera. Questo Common Sense Media ha un motto che dice Trust your gut, then trust us. Cioè senti la tua pancia e dai fiducia a quello che senti di pancia e poi dai fiducia a noi che ti diamo una serie di informazioni. Questi genitori l'hanno sempre sentito di pancia che questo strumento nelle mani di bambini piccoli era problematico, ma sormontati da questa onda di entusiasmo che si respirava nelle politiche scolastiche, nella società, non hanno saputo opporre una resistenza organizzata a questo fenomeno. I loro stessi hanno manifestato dei problemi a gestire questo strumento come emerge dalle sarve e per cui si è abbassata da questa età. Ecco, se possiamo mandare qualche slide, vi posso far vedere cosa oggi sta emergendo rispetto a questa anticipazione. Ecco, al centro di ricerca benessere digitale dell'Universario di Milano Bicocca abbiamo per la prima volta in Italia provato a correlare i punteggi invalsi, che tutti sapete sono i punteggi di performance, in questo caso della seconda superiore. Quindi i ragazzi e ragazze di seconda superiore, i loro punteggi invalsi in relazione all'età in cui avevano ricevuto il loro primo smartphone personale. Quello che noi vediamo è che chi riceve lo smartphone a 9 anni o meno, oppure a 10, rispetto a chi lo riceve a 11, 12, 13, ha una performance inferiore. Ora noi non possiamo interpretare questo in senso causale. Queste sono delle associazioni, seppur calcolate tenendo conto di una serie di fattori di controllo, il titolo di studio, dei genitori, il genere, tutta una serie di altri fattori. La cosa interessante che ci interroga ancora di più è che lo stesso più o meno andamento lo vediamo se incrociamo l'età di arrivo dello smartphone con le competenze digitali critiche, non sono competenze digitali operative, sono competenze digitali di consapevolezza nella gestione dei contenuti. Se ci sono insegnanti tra di voi conosceranno il DigComp, questo framework della competenza digitale, ecco questo test è stato costruito sulla base del DigComp, quindi misura la capacità di interpretare le informazioni, di avere interazioni positive con gli altri sui social e cose di questo genere. Prima arriva lo smartphone, peggio, è la competenza digitale a 16 anni, anche questo controllando per una serie di variabili. Questi risultati ci fanno interrogare. Questa associazione avrà anche una base di causalità? Cioè noi stiamo dando uno strumento ai nostri figli e figlie sempre più precocemente che loro non sono in grado di gestire? Risposta della retorica tecnottimista che dicevo prima è, beh, basta una buona educazione digitale. Lo smartphone è uno strumento, questa è una frase che si sente sempre dire, è uno strumento e come tale può essere usato bene o può essere usato male, l'importante è essere educati a usare bene questo strumento. Però faccio notare questo che, per esempio, insegnare a un bambino di 8 anni, che tutto ciò che dice agli altri potrebbe essere usato in un futuro contro di lui e quindi di stare attento perché di non dire nulla di se stesso, di non fare delle foto, di non pensare che magari dopo 20 anni qualcuno potrebbe prendere quello che lui ha detto, non è un tipo di educazione adatto a quell'età, eppure è l'educazione giusta per stare in ambienti problematici come i social. E il rapporto tra smartphone e social è strettissimo, è difficilissimo avere in mano uno smartphone che non acceda ai social. Quindi ci domandiamo le ragioni di questa precocità e le conseguenze di questa precocità. Dimmi tu quando devo fermarmi per dare. La stessa rapporto, vabbè, qui è uno studio, sempre che abbiamo fatto noi in Bicocca, è un po' più complesso perché cercava quella causalità che prima non potevamo avere. Allora ha dovuto usare diversi punti nel tempo e ha stabilito che l'effetto negativo causale si verifica solo per una parte del campione, del nostro campione, che sono le persone che hanno avuto un uso intensivo degli schermi prima di ricevere lo smartphone, in termini di televisione, console, videogiochi, eccetera. Quindi quella parte del campione di studenti che aveva già un'abitudine all'uso massiccio degli schermi nel momento in cui ha preso lo smartphone ha manifestato tre anni dopo un calo dei rendimenti scolastici significativo. Non si rilevano effetti positivi, neanche cercandoli in sottocampioni. Per esempio noi immaginavamo che il sottocampione di quelli più interessati alla scuola potesse rivelare un effetto positivo perché avrebbe usato lo smartphone in maniera funzionale all'apprendimento. Non si rilevano. L'unico effetto che si rileva è questo. L'associazione negativa però, questo è ancora più preoccupante, la ritroviamo in tanti studi che hanno preso come variabile dipendente la salute mentale. Non so se avete sentito in queste settimane ha fatto molto discutere un libro di Jonathan Haidt, forse l'avete letto da qualche parte perché è stato molto coperto dai media. Questo libro porta una serie di evidenze, raccoglie una serie di evidenze che portano a dire che, portano l'autore, a sostenere che gli smartphone legati ai social media sono uno dei fattori che ha causato un crollo della salute mentale. Juan Carlos prima ricordava il 2010 e il 2012 come anni di diffusione degli smartphone. Ebbene, nelle statistiche sulla salute mentale, il titolo del libro è The Anxious Generation, la generazione ansiosa. Proprio dal 2010-2012 c'è questo calo della salute mentale molto pronunciato per le ragazze, più pronunciato per le ragazze. E quindi gli studiosi hanno cominciato a dibattere, il dibattito non è concluso, non c'è una risposta definitiva. Haidt sostiene che abbiamo così tanti, diciamo, sospetti, indizi che alla base ci sia anche questo fenomeno, unito ad altri fenomeni come per esempio cambiamenti nei modelli di genitorialità, da lanciare un'allarme rispetto a questo. Quindi prenderci in carico collettivamente il tema dell'arrivo precoce dello smartphone. Ecco, è interessante che su queste conseguenze, ecco questo è il libro di Haidt, lo vedete lì a destra, e sul fatto che questa retorica tecnottimista sia stata la base di questa accettazione un po' a critica, sempre rispetto ai bambini. Ci sono degli interessanti libri, tra cui l'ultima ideologia di Gabriele Balbi, che dice sostanzialmente che nell'epoca del crollo delle grandi ideologie il digitale ha rappresentato l'ultimo grande appiglio di speranza a cui attaccarsi. Per cui c'era anche qualcosa di positivo nella tendenza a dire ma sì, il digitale veramente ci cambierà la vita, ci renderà tutti più buoni e più bravi. Cioè il fatto che si vedeva un'ancora positiva di speranza. Che c'è ancora, perché la mia tesi è che il digitale sarà questo se sapremo governarlo, credo che anche il libro di Juan Carlo dicesse questo, non diceva eliminiamo gli smartphone ma creiamo uno smartphone migliore, creiamo uno smartphone con le caratteristiche che ci fanno essere liberi, che ci fanno realizzare, e che ci rendono felici. Questa è la common sense media. Ecco, poi vorrei parlare di progetti più applicativi ma magari lo faccio nella successiva parte. Ti ringrazio molto, sono degli studi assolutamente essenziali. Collegandomi all'ultima cosa che dicevi, le tecnologie di largo uso vanno umanizzate e per umanizzate intendo che se guardiamo la storia di tecnologie, parliamo di tecnologie affini, per esempio il telefono, il telefono fisso. Alessandro Granbell, invenzione del 1876, poi una lenta diffusione perché il telefono fisso in realtà prende decenni e decenni della sua diffusione e in parallelo la sua diffusione concreta, pratica, prima per i ricchi, per alcune applicazioni di business, però molto lentamente le famiglie della popolazione più estesa, c'è stato un processo di creazione di norme sociali. Cioè il telefono fisso era un oggetto che inizialmente creava profondo sgomento perché il fatto che da una scatoletta uscisse la voce umana era considerato da alcuni magia, da altri come il demoniaco e il fatto che questo oggetto senza il nostro intervento potesse improvvisamente squillare teoricamente a qualunque ora del giorno o della notte e senza sapere chi lo facesse squillare perché il fatto che da 30 anni si sappia chi chiama, è un fatto relativamente recente, per moltissimo tempo il telefono era senza call ID come diciamo adesso perché non c'era uno schermo. Allora queste caratteristiche oggettivamente inquietanti hanno fatto sì che ci sono voluto un lungo processo per decidere come collettivamente usare il telefono. Questa è una cosa che già dai tempi, già subito con Alessandro Granbell la domanda era sì ma che faccio dopo che ho risposto? Cosa dico? Per esempio Alessandro Granbell diceva bisogna dire ahoi, cosa che non ha attecchito come ben sappiamo perché hanno detto come si è cominciato a dire hello in inglese, mishimoshi in giapponese, pronto in italiano, tutte invenzioni perché non sapevamo cosa fare. Nel caso del telefono fisso sono sviluppate delle norme sociali abbastanza rigide per cui quando ero piccolo io se squillava al telefono all'ora di cena, penso che sia l'esperienza di alcuni di voi della mia età, mio padre, mio padre non mia madre, diceva chi è che telefona a quest'ora perché c'era una violazione di una norma sociale con anche l'implicita preoccupazione che fosse successa una cosa, un'emergenza, magari addirittura una disgrazia. Col telefono, con lo smartphone che appunto ripeto un fenomeno socialmente rilevante da 12 anni, 12-13 anni e da un certo punto di vista, poi abbiamo un sociologo qua di fianco, è presto per, cioè è normale che ci stiamo interrogando per esempio a che età darlo, perché socialmente 10 anni, 12 anni sono pochissimo e sarà l'esito di questa riflessione a cui contribuiscono questi studi, al certo punto forse arriveremo socialmente, collettivamente col contributo della scienza, con l'esperienza personale a dire che socialmente lo smartphone non si dà prima di una certa età, magari arriveremo a un consenso di questo tipo, perché arriveremo a dire, no non è come diceva Marco Gui, non è una questione di capire come insegnare a usarlo a un bambino di 8 anni, è proprio meglio che non ce l'abbia, fino a 12-13, l'età vedremo che cosa darà fuori da questa elaborazione in parte sociale e in parte scientifica. Quindi da un certo punto di vista è normale, dall'altra nel frattempo però ci possono essere dei danni e quindi questi studi, specialmente sulla benessere mentale, dobbiamo anche preoccuparci del fatto che nel frattempo mentre la società evolve e sviluppa le sue norme ci possono essere delle vittime, dobbiamo preoccuparci. Aggiungo un dato che diceva implicitamente Marco Gui sull'utilizzo di smartphone e social media, vi dicevo tra le 4 e le 5 ore, l'indicazione è che tre quarti di quel tempo, quindi un po' meno di 4 ore, sono sui social media, quindi l'uso largamente prevalente dello smartphone è sui social media, potremmo quasi dire che è un social media phone per l'uso prevalente, quindi Instagram e poi soprattutto Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e cose via nel mondo occidentale sono quelli utilizzati prevalentemente. Quindi questa era un po' la cosa che volevo aggiungere. Hai parlato di norme sociali, per esempio io penso sempre che una norma sociale implicita è che se qualcuno ti chiama e tu sei impegnato o sei in un'altra conversazione rimane la memoria di chi ha chiamato, ma questo in qualche modo scarica su di te l'onere di richiamare. Quindi una persona che è impegnata si trova alla fine della giornata una serie di messaggi, di chiamate, eccetera, e ha tutto un altro lavoro. Ma non è detto che la norma sociale possa essere invece l'opposto, cioè chi ha chiamato e non ha trovato deve richiamare. Allora, questa è una cosa banale, ma per dire che dietro, come ha detto Juan Carlos, c'è qualcosa che noi diamo per scontato, ma che invece noi possiamo cambiare e anche per il benessere nostro, delle nostre vite. Io tra chi riceve la chiamata e chi chiama darei più l'onere a chi chiama. Ma questa è una mia... E se posso anche il fatto, cosa che prima col telefono fisso era impossibile. Adesso lo smartphone abilita la possibilità, e molti fanno bene a farlo, di chiedere con un messaggio testuale, se è un buon momento per chiamare. Col vecchio telefono era molto difficile farlo. E quindi, per esempio, la norma sociale che personalmente auspico e raccomando è quella di mandare un messaggio, anche un sms se volete, oppure usate il canale che volete, vuol dire è un buon momento per parlare, posso chiamare adesso? Perché appunto rende un pochino più, umanizza un po' questo strumento che altrimenti è invasivo, perché la telefonata di per sé è invasiva. Decido io quando disturbare te. Questo è un po' il principio della telefonata. E quindi su questo vediamo, è passato qualche anno, vediamo se si andrà in quella direzione. Visto che ci manca un quarto d'ora, vuoi parlarci di patti digitali, che è questa esperienza fantastica che tra l'altro ha attecchito anche a Torino, se non sbaglio. Prima di parlare di patti digitali vi mostro solo una slide. Questa è una survey che abbiamo appena finito di condurre a Milano, hanno risposto circa 10.000 famiglie di bambini e bambine tra gli otto anni, terza elementare e terza primaria. La riga blu che vedete è l'età in cui i bambini ricevono lo smartphone e la riga invece varancione è l'età a cui i genitori riterrebbero adatto consegnare lo smartphone se si dovesse prendere una decisione collettiva. questo gap che è di tre anni circa è una cosa che ci interroga. Cosa dobbiamo fare a livello istituzionale, a livello politico, a livello educativo rispetto a questo gap? Dobbiamo cercare di colmarlo? Non dobbiamo cercare di colmarlo? Cosa c'è sotto? Ecco, questo è uno degli interrogativi che, e vado al patto digitale, che ha fatto nascere una rete di gruppi di genitori. Questa è una rete che è nata in maniera molto spontanea inizialmente. Gruppi di genitori che si trovavano fuori dalle scuole e dicevano, sai che adesso mio figlio mia figlia è in quinta elementare, adesso dovrò dargli lo smartphone. Sono preoccupata perché questo causerà una serie di problemi, devo pensarci, devo organizzarmi, ma mi piacerebbe molto rimandare, avere ancora del tempo per pensarci, ma non è possibile perché dopo rimane escluso, dopo la scuola gli chiede di andare a vedere il registro elettronico, eccetera. A meno che non lo facciamo insieme. E questa è l'idea base. Sono partiti alcuni gruppi anche in maniera indipendente tra di loro, poi si sono collegati in una rete che fa capo all'Università di Milano Bicocca, adesso ci sono un centinaio di gruppi attivi in Italia e Torino è una città particolarmente dinamica, ci sono anche delle rappresentanti di uno dei patti che ci sono in città e ce ne sono due principali, da quello che ho capito più altri patti nella provincia. Quali sono i principi sostanzialmente che questi gruppi di genitori condividono? Sono cinque, ma il primo e l'ultimo sono quelli più importanti. Cioè l'idea che la tecnologia sia una bellissima cosa, ma vada inserita, va in modo graduale. Quindi ci sono delle fasi dello sviluppo di un bambino, di una bambina dove vanno bene alcune attività magari in un contesto chiuso, non in internet aperto, perché è chiaro che internet per molti versi non è fatto per i bambini. Ma accanto a questo ci possa essere un'educazione che li segue, ma un'educazione fase specifica con dei passi fase specifici. In particolare la navigazione autonoma, cioè un bambino, un ragazzino, una ragazzina che sia davanti a internet da solo tutto il pomeriggio a fare i compiti online è una questione problematica. Quindi l'idea è quando questo deve avvenire, i patti digitali sostanzialmente nella maggior parte dei casi concordano che fino alla seconda media, alcuni all'inizio, alcuni alla fine, sia più opportuno aspettare. Ovviamente non è una cosa obbligatoria. Chi vuole firma e si unisce al gruppo, ma questo genera delle masse critiche all'interno delle classi, per cui anche i docenti devono prendere atto che quando ce ne sono 5-6 che hanno firmato, le cose devono girare diversamente. Non si può pretendere che i bambini abbiano sempre l'accesso alla rete tutto il pomeriggio, specie se stanno a casa da soli. Ultimo punto, per farlo serve una comunità. Cioè questo non è un problema individuale come spesso viene trattato. Cioè devi vedere se tuo figlio è pronto, se è maturo. Sì, questo è un pezzo. Ma in realtà la tua decisione di dare uno smartphone a tuo figlio in terza elementare genera un effetto di rete sull'intera classe, per cui gli altri lo vorranno e per cui chiederanno e altri magari lo comprano e poi il figlio rimane in minoranza. Tutti degli effetti sociali che dobbiamo trattare come sociali. E quindi serve una comunità per iniziare un cammino diverso. Poi è chiaro che dobbiamo chiedere anche ai poteri forti, tra virgolette, a meta e ai produttori di darci un'offerta adatta a quest'età. Ma io credo che questi player reagiranno nel momento in cui sentiranno anche la pressione dal basso. Cioè una domanda forte dal basso per cui offriranno anche questo genere di prodotti. Altro punto importante è che gli adulti sono vittime meno dei più giovani, perché sono in una fase dello sviluppo dove i danni sono minori, ma sono vittime anch'essi. Siamo vittime tutti di questo. Quindi parte digitale vuol dire anche una riflessione da parte degli adulti. E stiamo lavorando proprio nell'andare avanti su questo. Quali impegni prendiamo rispetto alla gradualità dei nostri figli, ma quando i impegni prendiamo noi. Quindi banalmente ritagliamoci delle ore serali prima che i bambini e i ragazzini vadano a letto in cui magari questo smartphone viene messo via e dopo lo riprendiamo successivamente. Cerchiamo di organizzare anche la nostra vita perché possa esserci quell'esempio rispetto a questo utilizzo sano e equilibrato. Ultimo punto, i patti digitali si sono espansi sempre di più anche nella direzione di coinvolgere altri attori. Uno dei più importanti è il pediatra di famiglia. Attualmente il pediatra di famiglia non dà indicazioni, nella maggior parte dei casi, rispetto a un buon uso del digitale. Quindi c'è un progetto parallelo che si chiama Custodi Digitali, il cui scopo è fare formazione ai pediatri perché fin dai pochi mesi di vita dei bambini i genitori ricevano una serie di indicazioni, consigli, che riguardano rischi e opportunità degli schermi nelle prime fasce di vita. Allora se davvero le diverse figure implicate nell'educazione digitale cominciano a dare dei messaggi convergenti, allora forse possiamo riprendere il controllo di un fenomeno che ci è sfuggito di mano. Insieme poi a una tecnologia che magari riusciremo un po' a rendere più positiva per il nostro benessere, forse riusciamo, ecco, in questo cammino c'è una vena di ottimismo ovviamente dietro questo, ma la velocità con la quale si è diffusa questo progetto segnala che forse questo ottimismo c'è. Fantastico progetto. Prima allerto chi vuole intervenire a fare un domanda concisa, un commento conciso, c'è una signora qui, aggiungo che una cosa perfettamente possibile e auspicabile a mio avviso sarebbe anche quello di chiedere espressamente degli smartphone per quella fascia d'età. Nel senso che lo smartphone che abbiamo adesso, che è stato pensato per le esigenze degli adulti, ha degli aspetti altamente problematici per tutti, per esempio soprattutto il fatto che questo in realtà potremmo cambiare completamente la prospettiva e dire questo è un oggetto, un idrovora che raccoglie i dati che riguardano noi l'ambiente in cui ci troviamo in maniera sistematica, cosa che se applichiamo a dei bambini diventa improvvisamente preoccupante al massimo, perché cosa vuol dire? Un oggetto che raccoglie sistematicamente dati su bambini di 8, 9, 10, 11 anni, dati che finiscono in pancia a qualcun altro e che rimangono nella loro disponibilità per un tempo indefinito, allora sarebbe auspicabile dire create degli smartphone dove questa raccolta di dati è strettamente limitata o quasi completamente abolita in maniera tale che si possa stare tranquillo almeno da questo punto di vista. Prego. Grazie, grazie per gli interventi interessantissimi, volevo solo chiedere una precisazione, questi patti digitali, chi sono gli attori principali? I genitori oppure rientrano proprio anche come promotori le istituzioni come scuole, ASL, insomma dipartimenti di prevenzione, volevo capire proprio come funzionano meglio nel concreto, grazie. Allora la via più semplice è che nella maggior parte dei casi avviene così, gruppi di genitori di una scuola, di una classe si trovano una sera, si informano con alcune risorse che si trovano anche nel sito patti digitali punto it, c'è anche un facsimile per scrivere il proprio patto, si accordano su una serie di impegni, propongono questi impegni ad altri genitori dell'area, della classe, della scuola eccetera ed ecco fatto il nucleo del patto digitale. Quindi una cosa semplice che però attraverso la sottoscrizione pubblica ci impegna reciprocamente verso e quindi mette in atto anche una dinamica di confronto tra genitori che non sempre c'è e che tra l'altro poi si è vista essere utile anche per altre esigenze. In alcuni casi questo si espande a comprendere una collaborazione con la scuola dove tra l'altro ci sono degli attriti proprio perché le politiche scolastiche spesso stanno andando in direzioni in parte confliggenti con questo ma molte scuole l'hanno fatto un accordo, ci sono le istituzioni locali, ci sono i pediatri, in casi più rari la cosa parte direttamente dall'istituzione quindi un comune o una parte di un comune dice qui dobbiamo fare una cosa di questo genere quindi sollecitano i genitori. Quello che sta avvenendo a Milano in particolare è che il comune di Milano ha deciso di prendere il timone di una dinamica di questo genere per scrivere questo dovrebbe essere pubblicato a ottobre un documento di raccomandazioni della città attraverso un ascolto collettivo che sta andando avanti da un anno e mezzo però bastano tre quattro genitori. Sì, volevo semplicemente dire che se ci fossero delle persone interessate sui fatti digitali attivi qui in Piemonte sono disponibili a dare informazioni. Grazie. Buongiorno, grazie mille di questo intervento interessantissimo. Io volevo fare due domande. Una è, ho letto che ultimamente si sta verificando una specie di overdose da social, nel senso che qualcuno comincia a essere, è stato talmente sovrabbondante che c'è una certa fase di distanziamento. Volevo un vostro parere da esperti se questo lo vedete davvero verificarsi o se è una pia illusione. L'altra cosa è, io sono di fine anni 60 e la grossa difficoltà che ho avuto come genitore a gestire lo smartphone, a mio parere, è anche legata al fatto che non ce l'ho avuto quando ero piccola. Quindi per me è stata, mentre altre cose le ho vissute io stessa e quindi sono in grado più facilmente di gestirle con i miei figli, questa dello smartphone non avendola vissuta è stato un po' affrontare una cosa tutta nuova. Mi chiedo, adesso che ci sono dei genitori più giovani che hanno avuto lo smartphone già nelle mani prima, forse anche lì oso sperare che ci sia una maggior consapevolezza e anche una maggior capacità di gestire lo strumento il problema e anche lì volevo chiedervi come la vedete. Sulla primissima cosa, quello che posso rispondere è che aneddoticamente sembrerebbe esserci tutta una serie di iniziative, di classi, di studenti che fanno una specie di digiuno dallo smartphone in maniera collettiva, di gruppi di studenti anche universitari che si trovano per serate soltanto di lettura, di confronto senza lo smartphone eccetera. I media ne stanno cominciando a dare rilevanza però francamente mi sembra ancora tutto molto aneddotico, sembra in crescita ma credo ci vogliono dei dati un pochino più solidi per capire se è così un po' folcloristico o se effettivamente comincia a incidere a livello numerico. Per il resto? Sì, anch'io ho sentito vari, ho letto vari articoli che raccontano di queste esperienze ma ho la stessa opinione, cioè non credo che basterà affidarsi alla sensazione di nausea che può venire da un utilizzo così abbondante anche perché le grandi società utilizzeranno magari altri strumenti per cambiare leggermente l'offerta, per farci rientrare nei binari. Credo che questi siano comunque dei segnali importanti da ascoltare ma la soluzione secondo me starà più in una presa in carico collettiva del problema piuttosto che una spontanea remissione del fenomeno. Sul fatto dei genitori più giovani, in effetti il fatto di aver vissuto questa esperienza rende un po' più sensibili. Ci sono delle ricerche sui fratelli maggiori che magari hanno avuto lo smartphone da piccolissimi che sono addirittura più severi dei genitori quando gli si chiede cosa farebbero con il fratellino o la sorellina più piccoli e ti raccontano una serie di esperienze problematiche che loro vorrebbero evitare al più piccolo. Quindi ci sarà sicuramente questo racconto e questa esperienza da valorizzare anche nelle politiche e nelle azioni i prossimi anni. Ok c'è la signora qui e poi anche qua dietro. Posso? Grazie. Una domanda, una riflessione sulla disuguaglianza digitale. Cioè nel senso questo è veramente molto interessante la questione dei parti digitali e mi chiedo, quindi mi viene da chiedere, dato che è diversa anche la composizione di ragazze e ragazzi soprattutto provenienti da condizioni sociali, economiche, culturali diverse e quindi di conseguenza anche paradossalmente in realtà è inversamente proporzionale. Cioè magari in famiglie che hanno più consapevolezza l'uso dei parti digitali immagino attecchisca di più, mentre invece al contrario sembra essere quasi ribaltata come nelle famiglie in cui le condizioni magari economiche, sociali, culturali sono inferiori per tutti i motivi del mondo in realtà c'è un accesso di uso al contrario dei dispositivi digitali. e quindi in questo caso dei parti digitali c'è un tentativo di magari riuscire a raggiungere le fasce, scusate, la genericità più deboli insomma della società. Grazie. Prendiamo anche la domanda del signore qui e poi chiudiamo. Io direi che praticamente gli studenti sono diventati più intelligenti questi anni. io penso se guardiamo se devono imparare sempre di più inglese, digitale, scuola, lavoro e cittadinanza sempre di più e imparano tanto da questi telefonini inglesi per esempio aprono totalmente la prospettiva per esempio tanti anni fa dobbiamo descrivere cos'è un terremoto adesso possono vedere al YouTube, possono vedere tutto hanno una pittura incredibile adesso io penso sì, c'è problemi con concentrazione ma dobbiamo ricordare che queste tecnologie offrono anche un lato molto positivo un'apertura incredibile e anche un'apertura culturale a diverse culture eccetera forse diverse prospettive tanti anni fa eravamo tutti contenuti nella nostra nazione in prospettiva nazionale eccetera eccetera così possono parlare molto di più l'uno con l'altro stappertuto vedere arricchiano la loro vita ringrazio e per quello che ho voluto cominciare il mio intervento sottolineando che io queste macchine appunto ripeto in parte in maniera irrazionale le adoro e ho detto che sono macchine estremamente versatili utili, molto importanti e notiamo che però anche gli schermi precedenti come la televisione si diceva finalmente puoi vedere concretamente le cose che capitano nel mondo le guerre in Vietnam e altrove ciò nonostante c'è nonostante quindi dato per acquisito gli aspetti positivi che sono molto importanti e ripeto io stesso lo utilizzo con grande piacere con grande utilità c'è nonostante come per la televisione ci siamo chiesti ma è giusto mettere un bambino di tre anni otto ore al giorno davanti a una televisione e tutta una serie di studi che sono durati analogamente con questo oggetto sottolineando non dimenticando gli aspetti positivi ci chiediamo qual è il modo migliore di utilizzarlo e sono gli oggetti che abbiamo discusso in questo incontro che poterà durare molto di più ma che purtroppo dobbiamo chiudere ma lascio l'ultima battuta a Marco Gui Allora sulla prima domanda è un punto fondamentale ci sarebbe molto da dire sul fatto che il digital divide si è capovolto per alcuni aspetti cioè una volta chi aveva condizioni di svantaggio era meno connesso oggi nei tre giovani è il contrario dalle statistiche e quindi noi abbiamo un problema di sovraconsumo soprattutto tra le fasce deboli sia socialmente che psicologicamente è vero che i patti digitali sono stati recepiti soprattutto dalle classi medio-alte o dai genitori con titoli di studio medio-alto e stiamo tentando di fare qualcosa per diciamo limitare il fenomeno alcuni patti hanno tradotto per esempio anche in tante lingue in modo da includere le fasce di famiglie immigrate che magari non si erano avvicinate prima quindi dei tentativi ci sono speriamo che comunque anche se fosse una nicchia diciamo che parte da un segmento della società questo possa diventare qualcosa che poi diventa mainstream questa è un po' la speranza però quello è un punto fondamentale sulla seconda domanda certamente questa è una delle prospettive però empiricamente io rilevo che questo grande beneficio spesso non si trova e quindi secondo me perché non si trova perché non è detto che l'aumento della stimolazione per forza produca un beneficio nell'apprendimento e ci stiamo rendendo conto forse che per gustare per introiettare per capire in profondità qualcosa un bambino una bambina devono avere una selezione chiusa di stimoli su quella cercare di andare in profondità devono anche imparare poi a navigare in un mare di informazioni devono avere alcuni esperti parlano di un di un cervello doppio cioè il cervello della navigazione tanti stimoli cercare di muoversi però anche il cervello che approfondisce questo cervello che approfondisce attualmente queste tecnologie non lo coltivano molto quindi la sfida sarà di affiancare queste due capacità in modo che una persona possa usare l'una e l'altra quando è necessario perfetto grazie ancora a tutti voi grazie a Marco Gui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti